Avevamo chiesto che si facesse una legge chiara e semplice, invece se uno apre queste due pagine di progetto di legge che diventeranno breve legge, come al solito non ci capirà dentro nulla perché andiamo a vedere un articolo 1 che va a modificare le leggi regionali tra 2008, 34, 2004, 19, 2007 e via dicendo e quindi fondamentalmente andiamo in direzione contraria a quella che spesso, almeno in giro tra le persone, quando incontriamo i cittadini raccontiamo, ovvero vogliamo semplificare, vogliamo fare delle norme che siano chiare, che le persone possano capire qua andiamo in tutt'altra direzione. Il secondo passaggio invece è quello relativo, almeno nel merito della legge ai criteri premialità sui bandi. Ci sembrava all'inizio una posizione interessante, siamo andati ad approfondire e abbiamo trovato che fondamentalmente i bandi che vengono fatti per le scuole accreditate sono andati al 99,9% a scuole paritarie, quindi andiamo a inserire delle premialità e andiamo a finanziare fondamentalmente o a dare dei vantaggi ancora al settore paritario e non a quello pubblico e quindi quello pubblico si trova cornuto e mazziato senza fondi perché non partecipano i bandi o perché non si fanno bandi ad hoc o non si invita i bandi e dall'altra parte senza anche la possibilità di essere incentivati attraverso una premialità a partecipare, a migliorare le condizioni degli operatori, delle persone che operano con i bambini e quindi elevare la qualità del proprio istituto andando quindi chiaramente entrando in una situazione di ulteriore dislivello e una concorrenza che non è più al nostro modo di vedere leale. Condividiamo invece quello quanto scritto nell'ordine del giorno della consigliera Valmaggi per quanto riguarda l'impegno della giunta presso il governo a modificare il decreto legislativo 8108 perché è un decreto legislativo che parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso negli anni per chi ha lavorato in questo settore ha visto che ha obbligato degli oneri le imprese con dei corsi che sono al di fuori di quello che è la propria operatività quindi dei corsi degli oneri in termini economici e in termini di ore di formazione dei propri addetti per cose che magari non le concernano nemmeno e poi invece per una questione così importante e così specifica per chi opera a contatto con i bambini e con i minori non è stato previsto nulla. Io penso che questa sia una questione di buonsenso che si possa modificare con dei semplici emendamenti al mille proroghe quindi non riprendendo in mano per l'ennesima volta l'ex 26 che è diventata poi 8108 ma facendo degli emendamenti puntuali e inserendo per gli operatori che già operano all'interno del settore dei centri per l'infanzia, delle scuole per l'infanzia e delle scuole con i minori questo tipo di interventi all'interno di quello che è già previsto dal decreto legislativo e quindi per quello che è già obbligatorio per i dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. Quindi siamo parzialmente contenti che si va comunque verso un obiettivo che ci eravamo prefissati, quelli di fare una formazione e di ridurre la mortalità infantile per delle cose che con una formazione corretta diventerebbe davvero un intervento quasi banale però ci saremmo aspettati davvero una maggiore condivisione, abbiamo fatto un percorso insieme e che si lascia ancora per un attimo al tavolo per arrivare al lavoro migliore e non a quello che rischia di essere un pastrocchio normativo. Per questi motivi esprimo nel Movimento 5 Stelle un voto di astensione. Grazie.